Sì, penso che il tema delle botteghe storiche sia caro a tutti i partiti e i movimenti rappresentati in quest'Aula. Sicuramente la possibilità di utilizzare una targa è un qualcosa di positivo che si potrebbe portare avanti. Quindi quello che bisogna però tener conto è che ad oggi esistono già delle associazioni di botteghe storiche che hanno fatto questa scelta e hanno delle targhe autonome. Io quindi chiederei ai firmatari di questa mozione di portarla in commissione per perfezionarla e portarla avanti insieme, se sono d'accordo.